Io sono la professoressa Viola e insegno biochimica sistematica umana nel corso di tecniche di laboratorio biomedico. Il corso di laurea affronta tutti gli argomenti legati alla salute umana, sia dal punto di vista teorico e quindi ci saranno materie sanitarie, ma anche materie più pratiche, più legate alle tecniche e alle metodologie che si usano nella pratica quotidiana dei laboratori ospedalieri. Questa laurea può essere sfruttata anche per un ambito ambientale, quindi per utilizzare le stesse tecniche che si usano per la salute umana in ambito ambientale. Si può anche ovviamente utilizzare questa laurea per sviluppare maggiormente le proprie conoscenze in una laurea magistrale. Perché iscriversi all'Insubria? Perché i numeri disponibili non sono altissimi e quindi c'è un elevato rapporto docenti-studenti, perché ci sono moltissimi reparti ospedalieri e di ricerca dove si può anche trovare una parte più innovativa, quindi non soltanto l'applicazione delle tecniche, ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie, e perché gli studenti hanno un'ottima opinione di noi, se andate a vedere sul sito, quasi il 100% degli studenti vorrebbe rifare questo corso e molti di loro sono stati così contenti di aver fatto questo corso che hanno continuato il loro percorso di studi in questa direzione. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, mi chiamo Luca e sono uno studente iscritto al corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico. Ho scelto questo percorso per due motivazioni principali. La prima è la forte propensione per le discipline di ambito biomedico e la passione per il mondo laboratoristico. La seconda invece perché questa professione mi consente di operare senza avere un contatto diretto con il paziente, in quanto sono sempre stata una persona troppo sensibile per poter avere questo tipo di rapporto. Nonostante ciò, questa professione è fondamentale, in quanto circa il 70% delle decisioni cliniche prese dai medici si basa proprio su analisi di laboratorio. Qui all'Insubria sin da subito ho avuto modo di operare in laboratorio, questo grazie al rapporto docente studente uno a uno e grazie ai tutor di laboratorio che ti seguono nel tuo percorso sin dal primo anno. Scegli oggi il tuo domani.